La domotica è il futuro, ma anche il presente. La domotica è il passaggio definitivo al terzo millennio, quello in cui la casa, e non solo, si fa intelligente e soprattutto diventa realmente sostenibile. Tramite poi l'impianto di domotica poter rendere gli edifici sempre più sostenibili. Naturalmente la sostenibilità è uno dei fattori su cui ci si sta concentrando in questi anni. Sì, certo, ed è comunque un argomento toccato anche al Salone del Mobile, quindi comunque un argomento abbastanza sensibile già da un po' di tempo, ma che nei prossimi anni ovviamente sarà sicuramente il centro di tutte le decisioni che saranno prese, sia in ambito impiantistico che anche, insomma, immagino per quanto riguarda gli arredi. È stato questo il tema di un seminario organizzato dall'Ordine degli Architetti della provincia di Barletà-Andeatrani, un incontro nato dall'esigenza di aggiornamento diretto dei professionisti che operano e immaginano il futuro delle case e delle opere pubbliche. A volte ci si trova ad avere tanti sistemi, chiamiamoli domotici, o comunque funzionanti a sé, e c'è chi deve essere pronto a farli parlare fra di loro e farli interagire soprattutto. È il mondo dell'interazione, quindi è sempre più difficoltoso, i media ci fanno pensare che è tutto più facile, però spesso quando ci si trova a far interagire i prodotti fra di loro ci vuole una figura professionale adeguata e pronta ai cambiamenti continui che stiamo vivendo. Domotica e sostenibilità sono il binomio che appare quello vincente da perseguire per il futuro. La sostenibilità investe soprattutto il tema del sistema edificio in pianti, in parte anche il benessere e il confort delle persone all'interno delle abitazioni. È un tema di questi giorni, non è un tema nuovissimo perché risale a un po' di anni fa, ma è ritornato di grande attualità e gli edifici, essendo grandi consumatori di risorse, energia, acqua e anche materiali, hanno la necessità di essere resi più sostenibili nell'immediato futuro. Grazie.